berte il mio vecchio amico abbiamo talvolta degli amici molto più vecchi di noi il mio vecchio amico dottor bonet mi aveva spesso invitato a passare un po di tempo a casa sua a riom non conoscevo l'alvernia e nell'estate del 1876 mi decisi di andarlo a trovare arrivai col treno del mattino e la prima persona che vidi sul marciapiede della stazione fu il mio amico dottore era vestito di grigio e portava un cappello nero rotondo di feltro molle a larghe falde con la cupola molto alta e che si andava restringendo al sommo in forma di tubo di camino un vero cappello da carbonaio alverniate così vestito il dottore aveva l'aria di un vecchio giovanotto tanto era mingherlino sotto la sacca chiara e la grossa testa canuta mi baciò con quella gioia evidente che ha la gente di provincia vedendo arrivare degli amici lungamente desiderati e accennando con la mano intorno a sé esclamò pieno di orgoglio questa è l'alvernia non vedevo davanti a me se non una linea di montagne le cui vette simili a con i tronchi dovevano essere antichi vulcani poi alzando il dito ad indicare il nome della città scritto sulla facciata della stazione scandì riom patria di magistrati orgoglio della magistratura che dovrebbe piuttosto essere la patria dei medici domandai perché risposi ridendo perché anagramma questo nome e avrai mori morire ecco giovanotto perché io mi sono stabilito in questo paese e contento della sua freddura mi trascinò via fregandosi le mani sorbita una tazza di caffè latte mi toccò visitare la vecchia città ammirai la casa del farmacista e le altre case celebri tutte nere ma graziose come ninnoli con le facciate di pietra scolpita ammirai la statua della vergine patrona dei macellai e a questo proposito ascoltai anche la storia di una divertente avventura che racconterò un'altra volta dopodiché il dottor bonè mi disse adesso ti chiedo cinque minuti per andare a visitare un'ammalata poi ti condurrò sulla collina di chatelle guyon per mostrarti prima di colazione l'aspetto generale della città e tutta la catena del pui de dom aspettami sul marsapiede io salgo un momento e ridicendo subito mi lasciò davanti a uno di quei vecchi villini di provincia scuri chiusi muti lugubri questo qui d'altronde mi parve che avessimo una fisionomia particolarmente sinistra e ne scoprì presto il motivo tutte le grandi finestre del primo piano erano chiuse per metà da imposte di legno massiccio soltanto la parte superiore si apriva come per impedire alle persone richiuse in quel grande cofano di pietra di guardare in strada quando il dottore ridiscese lo misi a parte della mia osservazione mi rispose non hai sbagliato la povera creatura rinchiusa là dentro non deve mai vedere ciò che succede fuori è una pazza o piuttosto un idiota meglio ancora una deficiente ciò che voi altri normanni chiamereste una niente ah certo è una storia lugubre e nello stesso tempo è un singolare caso patologico vuoi che te lo racconti? assenti ed egli riprese ecco vent'anni fa i proprietari di questo villino ebbero una figlia una bimba simile a tutte le altre bimbe ma io non tardai ad avvedermi che mentre il corpo della bimba si sviluppava meravigliosamente bene la sua intelligenza rimaneva inerte cominciò a camminare molto presto ma non parlava e a principio la credetti sorda poi scoprì che udiva perfettamente ma che non capiva i rumori violenti la facevano sobbalzare la spaventavano senza che essa si rendesse conto della loro causa crebbe era bellissima e muta muta per mancanza di intelligenza tentai tutti i mezzi per portare in quella testa un barlume di pensiero in vano era sembrato di notare che riconosceva la sua balia dopo che fu svezzata non riconobbe più sua madre non imparò mai a dire quella parola la prima parola che pronunciano i bambini e l'ultima che sussurrano i soldati morenti sul campo di battaglia mamma tentava a volte dei belbettamenti, dei vagiti nient'altro quando il tempo era bello rideva continuamente lanciando dei leggeri gridi che sembravano cinguettii quando pioveva piangeva e gemeva in modo lugubre pauroso simile all'ululo dei cani le piaceva rotolarsi sull'erba come i giovani animali e correva come una pazza e ogni mattina se vedeva entrare il sole nella sua camera batteva le mani quando aprivano la sua finestra lei batteva le mani e si agitava nel letto perché la vestissero subito ella d'altra parte non mostrava di distinguere minimamente le persone una dall'altra sua madre dalla sua bambinaia suo padre da me il cocchiere dalla cuoca io volevo bene ai suoi genitori disgraziati e quasi ogni giorno li andavo a trovare spesso cenavo a casa loro e così potei notare che Berte l'avevano chiamata Berte sembrava riconoscere i cibi e che taluni le piacevano di più altri di meno aveva allora 12 anni era sviluppata come una ragazza di 18 e più alta di me mi venne dunque l'idea di sviluppare la sua golosità e di cercare con questo mezzo di fare entrare alcune sfumature nella sua mente di indurla per mezzo della diversità del gusto delle gradazioni di sapori se non proprio a ragionare per lo meno a fare delle distinzioni istintive tali da costituire già un certo quale lavoro materiale del pensiero in seguito facendo appello alle sue passioni e scegliendo con cura quelle che potevano servire al nostro scopo avremmo cercato di ottenere una specie di shock di rimbalzo del corpo sull'intelligenza per aumentare a poco a poco il funzionamento del suo cervello un giorno dunque posai davanti a lei due piatti uno di minestra l'altro di crema alla vaniglia molto zuccherata le fece assaggiare un po' dell'una e un po' dell'altra poi la lasciai libera di scegliere Berte mangiò il piatto di crema in poco tempo la fece diventare golosissima così golosa che sembrava non avere altro in testa che l'idea o piuttosto il desiderio di mangiare riconosceva perfettamente i cibi tendeva la mano verso quelli che le piacevano e se ne impadroniva avidamente piangeva quando le venivano tolti pensai allora di insegnarle a venire nella camera da pranzo al suono della campana fu difficile ma finalmente ci riuscì si era certamente stabilita nel suo oscuro intendimento una relazione fra il suono e il gusto ossia un rapporto tra i due sensi un appello dell'uno all'altro e per conseguenza una specie di associazione di idee se possiamo chiamare idea questa specie di unione istintiva fra due funzioni organiche portai più avanti il mio esperimento e le insegnai con quanta fatica a riconoscere l'ora dei pasti sul quadrante del pendolo non mi fu possibile per lungo tempo richiamare la sua attenzione sulle sfere ma riuscì a farle notare il campanello il mezzo che usai era semplice staccai la suoneria e quando il martelletto di rame annunciava mezzogiorno tutti quanti ci alzavamo per andare a tavola in vano cercai per esempio di insegnarle a contare i colpi correva verso la porta ogni volta chiudiva il campanello ma poi a poco a poco finì per rendersi conto che per quello che riguardava i pasti non tutte le suonerie hanno lo stesso valore e il suo occhio guidato dal suo orecchio si fissò spesso sul quadrante notato ciò ebbi cura ogni giorno a mezzogiorno e alle 6 di andare a posare il mio dito sul numero 12 e sul numero 6 appena giungeva il momento che essa aspettava e mi avvidi ben presto che essa seguiva attentamente il movimento delle due asticciole di rame che io spesso avevo fatto girare in sua presenza aveva capito dovrei dire piuttosto aveva afferrato ero riuscito a far entrare in lei la conoscenza o meglio la sensazione dell'ora così come ci riusciamo con i carpioni i quali però non hanno la risorsa degli orologi dando loro da mangiare ogni giorno alla stessa ora ottenuto questo risultato tutti gli strumenti a orologeria che erano nella casa occuparono in modo esclusivo la sua attenzione passava il suo tempo a guardarli ad ascoltarli ad aspettare le ore capitò anche una cosa assai buffa la suoneria di un grazioso orologino Luigi XVI che era appeso alla testiera del suo letto si era guastata e lei se ne accorse aspettava da venti minuti gli occhi sulla lancetta che il suono annunciasse le due ma quando la lancetta ebbe superato il numero due Berte fu stupita di non udire nulla tanto stupita che cadde a sedere sconvolta certamente da una di quelle violente commozioni che ci scuotono davanti alle grandi catastrofi ed ebbe la strana pazienza di rimanere davanti a quel piccolo meccanismo fino alle undici per vedere che cosa sarebbe successo ben inteso non udì nulla allora presa di colpo sia dalla pazza collera di colui che si vede ingannato deluso sia dallo spavento di colui che rimane sgomento davanti ad uno spaventoso mistero sia dalla furiosa impazienza della creatura appassionata che si imbatte in un ostacolo Berte afferrò le molle del caminetto e colpì l'orologio con tanta forza che in men che non si dica lo ridussa in frantumi segno che il suo cervello funzionava ragionava in maniera oscura è vero e dentro limiti molto distretti perché non riuscì a farle riconoscere le persone come riconosceva le ore per ottenere da lei un moto di intelligenza bisognava fare appello alle sue passioni nel senso materiale della parola ben presto ahimè ne avemmo un'altra riprova è terribile Berte era diventata una creatura stupenda era veramente un tipo una specie di venere meravigliosa e stupida aveva 16 anni ora e di rado io ho veduto una simile perfezione di forme una simile flessuogità e una simile regolarità di lineamenti ho detto una venere sì una venere bionda grassa vigorosa con grandi occhi chiari e vacui azzurri come il fiore del lino è una bocca grande dalle labbra rotonde una bocca da golosa da sensuale una bocca da baci ora una mattina suo padre venne da me con una faccia strana e sedutoci senza neanche rispondere al mio buongiorno disse le debbo parlare di una cosa molto seria non si non si potrebbe maritare verte fece un balzo di stupore ed esclamai maritare verte ma è impossibile e gli rispose sì lo so ma rifletta dottore gli è che forse noi abbiamo sperato se avesse dei bambini sarebbe per lei una grande scossa una grande felicità e chissà che il suo spirito non si risvegli nella maternità rimase molto perplesso era giusto poteva darsi che quella cosa così nuova che quel meraviglioso istinto materno che palpita tanto nel cuore delle bestie quanto nel cuore delle donne che fa sì che la gallina salti alla gola del cane per difendere i suoi pulcini poteva darsi che recasse una rivoluzione uno sconvolgimento in quella mente inerte e mettesse in marcia l'immobile meccanismo del suo pensiero mi tornò subito in mente d'altra parte un esempio personale qualche anno prima aveva avuto una canietta da caccia così stupida che non riuscivo ad ottenerne nulla la canietta ebbe dei cuccioli e da un giorno all'altro diventò non dico intelligente ma quasi simile a molti cani di intelligenza poco sviluppata appena intravista questa possibilità il desiderio crebbe in me di meritare Berte meno per l'amicizia che avevo per lei e per i suoi poveri genitori che per curiosità scientifica che cosa accadrebbe era uno strano problema risposi dunque al padre forse lei ha ragione si può tentare tentare ma ma lei non troverà un giovinotto disposto a sottovoce disse ho qualcuno restai di sasso balbettai una persona pulita una persona del suo ambiente rispose sì certo e posso sapere il suo nome sono venuto appunto per dirglielo e per consigliarmi con lei è il signor Gaston Dubois de Lucelle fui lì per esclamare farabutto ma tacqui e dopo un momento di silenzio dissi sì benissimo non vedo nessun inconveniente il povero padre mi strinse entrambe le mani la mariteremo il mese prossimo disse il signor Gaston Dubois de Lucelle era uno scapestrato di buona famiglia che dopo esserci mangiato il patrimonio che gli aveva lasciato suo padre e fatto un mucchio di debiti in maniera poco pulita stava cercando ora un nuovo mezzo di procurarsi del denaro quel mezzo lo aveva trovato bel giovane del tronde robusto ma donnaiolo della razza odiosa dei donnaioli di provincia lo giudicai un marito adatto da liquidare in seguito con una specie di pensione venne in casa a fare la sua corte e a fare la ruota davanti a quella bella ragazza idiota che del resto sembrava piacergli portava dei fiori le baciava le mani si sedeva ai suoi piedi e la guardava con occhi dolci ma lei non badava affatto alle sue premure e non sembrava fare più caso di lui che delle altre persone che le vivevano intorno il matrimonio ebbe luogo capirai a che punto era accesa la mia curiosità venne l'indomani a trovare Bert per scoprire sul suo viso se qualche cosa avesse trasalito in lei ma la trovai simile a come era stata fino allora preoccupato unicamente del pendolo e del pranzo lui invece sembrava molto innamorato e cercava di stimolare l'allegria e l'affetto di sua moglie con gli scherzetti e le moine che si usavano con i gattini non aveva trovato nulla di meglio cominciai a fare delle visite frequenti agli sposi novelli e non tardai ad avvedermi che Bert riconosceva suo marito e lo guardava con quello stesso sguardo avido col quale fino allora non aveva guardato se non i dolci seguiva i suoi movimenti riconosceva il suo passo sulle scale o sulle camere vicine batteva le mani quando lo vedeva entrare e il suo viso trasfigurato si rischiarava in una fiamma di felicità profonda e di desiderio lo amava con tutto il suo corpo con tutta l'anima con tutta la sua povera anima malata con tutto il cuore con tutto il suo povero cuore di bestia riconoscente era veramente un'immagine meravigliosa e ingenua della passione semplice della passione carnale pudica tuttavia quale la natura ha messo nelle creature prima che l'uomo la complicasse e alterasse con tutte le sfumature del sentimento ma lui si stancò molto presto di quella bella creatura ardente e muta non passava più presso di lei se non poche ore al giorno stimando sufficiente dedicarle le sue notti e lei cominciò a soffrire lo aspettava dal mattino alla sera con gli occhi fissi sul pendolo non preoccupandosi nemmeno più dei pasti perché lui mangiava sempre fuori di casa a Clermont a Châtelgouillon a Roya non importa dove pur di non rincasare lei dimagrì qualunque altro pensiero qualunque altro desiderio qualunque altra attesa qualunque altra confusa speranza scomparvero dalla sua mente e le ore in cui non lo vedeva diventarono per lei ore di atroce supplizio poco tempo dopo egli cominciò a passare le notti fuori di casa passava le serate al casino di Roya con donne non rincasava prima dell'alba lei non si voleva colicare prima che lui fosse rincasato stava immobile su una sedia gli occhi fissi sulle lancette di ottone che giravano giravano con la loro lenta e regolare marcia intorno al quadrante di maiolica dove erano scritte le ore udiva da lontano il trotto del suo cavallo e saltava in piedi poi quando lui entrava in camera si alzava come un fantasma indicando col dito il pendolo come per dirgli guarda come è tardi e lui cominciò ad aver paura di quella idiota innamorata e gelosa e si irritava come si irritano i bruti una sera la picchiò mi vennero a chiamare Berte si dibatteva urlando in preda a un'orribile crisi di dolore di collera di passione che so possiamo forse indovinare quello che avviene in un cervello rudimentale la calmai con qualche iniezione di morfina e proibì che rivedesse quell'uomo perché capì che il matrimonio l'avrebbe condotta certamente alla morte Berte allora impazzì sì mio caro quella ragazza idiota è diventata pazza e pensa continuamente a lui e lo aspetta lo aspetta di giorno e di notte sveglia ed addormentata sempre vedendo chi continuava a dimagrire poiché il suo sguardo ostinato non si staccava più dal quadrante degli orologi ho fatto togliere dalla casa tutti questi strumenti misuratori del tempo le ho tolto così la possibilità di contare le ore e di cercare continuamente in oscure reminiscenze il momento nel quale altre volte egli rincasava io spero alla fine di uccidere in lei il ricordo di spegnere quel barlume di pensiero che con tanta fatica ero riuscito ad accendere e l'altro giorno ho tentato un esperimento e ho fatto vedere il mio orologio e se l'ha preso l'ha osservato per qualche minuto poi si è messa a gridare con voce spaventosa come se la vista di quel piccolo strumento avesse improvvisamente risvegliato la sua memoria che cominciava ad assopirsi verte ora è magra magra da far pietà con gli occhi incavati e lustri e cammina senza posa come una bestia in gabbia ho fatto mettere delle grate alle finestre e delle imposte alte ho fatto inchiodare le sedie al pavimento per impedirle di guardare in strada se lui ritorna poveri genitori che vita per quei disgraziati eravamo arrivati in cima alla collina il dottore si voltò e mi disse guarda rion da quassù la città scura aveva l'aspetto delle vecchie città dietro a perdita d'occhio si stendeva una pianura verde boscosa popolata di villaggi e di città immersa in un fine vapore azzurro che rendeva incantevole l'orizzonte lontano alla mia destra si dilungavano delle alte montagne con una fila di creste o rotonde o tagliate nette come una sciabolata il dottore cominciò a denumerare i paesi e le vette raccontandomi la storia di ogni paese e di ogni vetta ma io non l'ascoltavo pensavo alla pazza non vedevo che lei essa sembrava librarsi come uno spirito lugubre su tutta quella vasta regione domandai ad un tratto dove è andato a finire lui il marito il mio amico un po' sorpreso dopo un momento di citazione rispose vive a Roia con la pensione che gli passano i genitori di Berthe è felice fa Baldoria mentre ritornavamo piano piano tristi silenzosi entrambi un tilburi ci veniva dietro ci superò velocemente al trotto di un puro sangue il dottore mi afferrò al braccio vidi soltanto un feltro grigio inclinato su un orecchio sopra un paio di spalle larghe che fuggiva in una nube di polvere grazie a tutti